basta prendere i video precedenti di estrapolo li metto qua che tanto il risultato è sempre lo stesso abbiamo vinto con la lazio siamo la io dovevo scommettere un euro che avremmo perso oggi dovevo scommettere perché era lampante era lampante che negli appuntamenti chiave il napoli fallisce era lampante ho fallito con l'inter secondo voi poteva non fallire con milan era lampante era scritto era tutto scritto era tutto scritto era tutto scritto che avremmo perso era scritto e sold out e più motivati spalletti più motivati di noi noi siamo più motivati degli altri e e io e io stronzo io appresso a molti di voi siamo stronzi che che corriamo sempre appresso a crederci a crederci a crederci basta 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 smettetela di illuderci basta 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 hanno sbagliato di tutto di tutto eppure nei primi 10 15 minuti è entrato la è iniziato bene la gara eppure velocità occasioni poi pioli che non è scema ha capito e già mi seppallo in testa spalletti basta è finita è finita è finita è finita è finita è finita in fase offensiva zero in zio neppolitano inutili zielischi solito fantasma osimen che è più inutile in una rissa in discoteca che in campo che smette sempre a bisticciare chiun che si fia in ammunizione in maniera stupida cioè tu durante un'azione tiri sopra ternandez con un'arroganza incredibile che è qua che devi migliorare osimen oltre che un discorso tecnico devi migliorare qua troppo nervoso troppo nervoso io non dico niente riguardo ai soldi spesi da osimen niente però ad oggi non ha ingarrato un guazzo non ha vi non ha segnato a una big fa sempre stessi cose ma pure ma pure Napoli fa sempre stessi cose lancio lungo lancio lungo lancio lungo ma a chi a me che sono da casa alla tua parte della strada chi a chi ste palle lunghe a chi chi vantaggio del milan meritato meritato perché è entrato con un'altra testa nel secondo tempo meritato ma l'errore di quel palè cioè tu vedi che girù è dietro di te sali stai in linea con ramani stai in linea invece niente invece niente che poi hai ricevuto pure il rigore per me era il rigore quello per il milan per me era il rigore come era il rigore su osimen però compensazione basta basta polemica poi in fase poi nel secondo tempo il gol nervo come al solito vi ricordate il Napoli di Mazzarri il Napoli di Sarri il Napoli di tempi andati ve li ricordate quando il Napoli andava in svantaggio tutti si nervosivano tutti tutti ogni minima perdita di tempo oh oh vanno a fa botta ma ok ma usate la testa usate la testa usate la testa che ti è morto ma dopo stasera abbiamo dimostrato ufficialmente che non siamo una squadra punto e io non mi voglio più illudere basta non mi voglio più illudere chi si azzarda di dire eh ma il Napoli è giocato bene ho sputo un faccio eh ma il Napoli è giocato bene è mancato così è mancato l'altro ho sputo un faccio ma bene cosa bene cosa che tu ok affrontavi Milan ma te lo dovevi mangiare te lo dovevi mangiare dopo l'Inter un pareggio non si sa come pareggiato meno male che l'Inter non ha fatto grandissime occasioni con l'Inter è pareggiato in casa e con il Milan è perso in casa in casa in casa quanti quanti punti abbiamo perso allo stadio in casa quest'anno quanti ho persi conto ho persi conto Empoli Spezia Inter Milano ho persi conto ho persi conto e nonostante lo stadio era pieno l'apporto del pubblico c'era dovevi dimostrare qualcosa invece fase offensiva nervosi imprecisi ci sono state due occasioni nel primo tempo in cui potevi andare in vantaggio e hai sbagliato i passaggi hai sbagliato il tempo hai sbagliato il movimento hai sbagliato tutto per la troppa frenesia per la troppa frenesia per la troppa ansia per la troppa paura Milan è entrato meglio nel secondo tempo più di noi basta noi abbiamo fatto qualche sostituzione ma niente che purtroppo ti giri in panchina e vedi un'ass vedi Mertens che è pure una volta tra le grandi partite vedi petagna che poi si è riscaldata tre ore e manca la fatta tra si ma a te serve qualcuno che la prende di testa moccacchi debir ti serve? Mettilo! Mettilo! con un grosso a culo magari colpi di testa e ciao! Mettilo! che cazzo devo dire? che devo dire? che devo dire? che devo dire? che devo dire? devo fare come l'anno scorno come due anni fa tre anni fa che stracciavo sogno scudetto uno non tengo a stampante che ho portato a rimane quindi non lo posso fare due è lampante basta ma io sono stronzo perché stasera sono incazzato domani leggendo le dichiarazioni di spalletti e facendo delle pagelle mi incazzo poi per tutta la settimana mi rilasso e ci credo perché abbocco alle parole dei giocatori su instagram abbocco le parole di spalletti abbocco le parole di altri tifosi perché giudicano gli altri tifosi degli occasionali perché criticano il Napoli e che a me fa? a me festeggiato perché un'altra pezza in casa con Milan il Napoli ha dimostrato di non essere nascolato punto basta l'Inter ci ha allungato di tre punti la Juve ha guadagnato tre punti e non c'è manco la scusa del eh ma siamo pieni di assenti no non c'è più una scusa non c'è più una scusa non c'è più una scusa il solito compito è già scritto prevedibile in maniera proprio prevedibile il Milan è venuto più convinto noi soliti cacati sotto ciao a domani con un pagellone grazie per averci illusi ancora grazie veramente grazie grazie se potessi vi abbraccerei per per le tante delusioni e illusioni che ci avete regalato grazie grazie grazie